E' partita l'operazione Decoro per Piazza Ducale. Dopo il nostro servizio della scorsa settimana in cui si denunciava lo stato di sporcizia del Sagrato del Duomo e del Colonnato, è stato fatto un primo intervento da parte di SMI sa concordato con la diocesi. Un'idropulitrice ha passato tutta la parte antistante all'ingresso del Duomo, cambiando completamente volto al Sagrato. Sono scomparse le disgustose chiazze che si erano formate in diversi punti, una proprio sul crocifisso posto al centro del piazzale. Le immagini che mettono a confronto gli stessi punti, girate la scorsa settimana e poi riprese di nuovo martedì mattina dopo l'intervento di pulizia, mostrano la differenza. Anche le basi delle colonnine martoriate dall'urina dei cani che i padroni non sciacquavano con la regolamentare bottiglietta d'acqua sono molto migliorate. Non un intervento risolutivo, insomma, ma sicuramente un ottimo passo avanti. Le chiazze che si vedono oggi sono quelle dell'acqua utilizzate per la pulizia e non più i resti di liquidi organici e animali e purtroppo anche umani che tanta indignazione avevano suscitato. L'allarme per lo stato di degrado del Sagrato del Duomo e più in generale di Piazza Ducale era stato lanciato da Piero Marco Pizzi della lista civica Le Api, che aveva documentato la sporcizia del salotto vigevanese, in particolare alla domenica mattina, retaggio dei bagordi del sabato sera. Ora l'aspetto del Sagrato è davvero migliorato, anche grazie ai contatti fra la diocesi e SM e ISA. Per completare l'opera andrebbero anche rimosse le macchie causate dalle gomme da masticare, ma soprattutto occorrerebbe che i frequentatori avessero per primi senso civico di non deturpare il salotto vigevanese.